Buongiorno, oggi ascoltiamo il Vangelo di Matteo al capitolo 19, versetti dal 13 al 15. Troviamo Gesù ancora una volta attorniato dai bambini e lo immaginiamo in mezzo a questa ciurma di fanciulli che le giovani mamme di Gerusalemme portano da lui e lì lo vediamo accanto a questi poveri e piccoli, le mamme che spesso sono vedove devono andare per strada a chiedere l'emosina per potersi mantenere, Gesù dunque che frequenta gli ultimi, gli emarginati, che ama stare con i più piccoli e questo facendo anche un passo oltre le resistenze dei suoi discepoli che cercano di allontanare questi bambini pensando che non è il posto per loro, non possono i piccoli entrare in un luogo dove ci sono gli adulti, non possono ascoltare i discorsi dei grandi, all'epoca non hanno voce in capitolo, ebbene vediamo Gesù che con la sua fermezza e la sua tenerezza li pone come modello proprio per quei discepoli che desiderano fare la volontà di Dio, l'abbiamo detto tante volte, i bambini sono modello dei discepoli perché sanno abbandonarsi, devono abbandonarsi a qualcuno che si prenda cura di loro e anche perché appunto sono ai margini, non al centro, non al primo posto. Oggi però vogliamo fare nostro l'atteggiamento di Gesù che è tenero e fermo nell'accoglienza degli ultimi, in particolare di questi piccoli, e lo vogliamo fare impegnandoci a essere anche noi capaci di accogliere davvero la vita dei bambini. Accogliere la vita dei piccoli significa difendere la vita fin dall'inizio del suo concepimento e promuovere una logica, una cultura, una modalità di stare al mondo che davvero renda possibile la custodia della vita dei più fragili, e non vi è nessuno di più fragile di colui che è ancora nel grembo della madre, totalmente dipendente da lei. Vogliamo impegnarci anche noi nel nostro piccolo e comunque nella nostra responsabilità a far sì che i bambini siano davvero al centro delle attenzioni tutti i bambini e che tutti i bambini del mondo possano godere delle stesse opportunità. Troppi bambini ancora muoiono di fame, vengono arruolati come bambini soldato, vengono messi da parte dalle famiglie, dai genitori, troppo preoccupati di fare gli interessi personali. Troppi bambini vengono sballottati di qua e di là perché non si ha la forza di vivere una fedeltà nell'amore che metta al centro il bene dell'altro e non soltanto la propria felicità. Vogliamo impegnarci ciascuno nella propria realtà a far sì che veramente la vita e la vita dei più piccoli sia il valore per il quale si spende tempo, energie e anche soldi senza cedere a delle modalità di seconda mano per tutelarsi e giustificarsi nei nostri egoismi. In particolare in Italia dove pochi bambini nascono e il popolo va invecchiando c'è bisogno di rinnovare una cultura della vita che dia voglia e desiderio alle giovani coppie di generare vita, di avere più figli, di mettere al mondo più bambini. Ne vale la pena e ne va anche nel nostro futuro. Che la terra possa avere ancora la gioia di risuonare dei sorrisi, delle grida, dei giochi e perfino dei pianti e forse dei capricci dei più piccoli. Ne vale sempre la pena. Buona giornata.